Secondo me lo è di già il Pizarro della Roma perché uno sa trattare palla, è uno che sa stare dentro il ruolo del regista e sa bene abbinare questo gioco corto da qualche lancio. Io penso di non dire niente di male a raccontare quello che gli ho detto. Gli ho detto che in Inghilterra danno un premio a chi gira più la testa durante una partita. Cioè a chi volta più la testa che si rende conto di quello che ha dietro. E gli ho detto se lo fanno in Italia te non tu lo vinci. E ci deve guardare di più. Gli ho detto questo. Perché quella del vedere dove non guardo è una caratteristica fondamentale nel calcio. Vedere un po' al contrario. E lui questa testa la deve girare di più perché poi sono questi passaggi improvvisi dietro le spalle che creano il vuoto per andare a scardinare le linee difensive. Gli ho detto questo.